Goleada della Vastese che trascinata da un superleonetti regola con un netto 4-0 un Fabriano Cerreto troppo inconsistente. La squadra del neotecnico Sauro Trillini alla sua quarta gara sulla panchina marchigiana a dispetto del risultato pare approcciare bene la partita e dopo appena 20 secondi Salciccia impegna Camerlengo ma è al quindicesimo che i locali si fanno più pericolosi con la punizione di Bambozzi che sfiora il palo. Alla prima vera occasione utile però una cinica Vastese passa. Leonetti è velocissimo a fare sua la sfera sulla tre quarti e superare con un preciso pallonetto che si insacca sotto il sette spitoni in uscita per la gioia dei tifosi aragonesi assiepati nel settore ospiti. La prima frazione termina con un colpo di testa tentato da Tafani fuori bersaglio. In avvio di ripresa gli aragonesi potrebbero subito raddoppiare ma Cristaldi manca di un niente l'appuntamento con il Tapin. Due episodi da Moviola tra l'undicesimo e il tredicesimo. Il primo in area marchigiana quando Fiore, servito da Leonetti, cade sull'uscita di Spitoni ma il direttore di gara ammonisce per simulazione il numero 10. Due minuti più tardi dalla parte opposta invece Tafani va in gol ma la rete viene annullata per fuorigioco. Il Fabriano cerca di recuperare la Vastese a più spazio per ripartire in contropiede e al ventesimo ancora Leonetti chiama al miracolo il neoentrato Monti. È il preludio al raddoppio Vastese che arriva al ventiseiesimo e porta la firma di Bagaglini che insacca la rasoiata all'angolino dove Monti questa volta non può arrivare. La gara è ora in discesa per la Vastese che gioca sul velluto e tre minuti più tardi fa il trissi in contropiede con un devastante Leonetti che firma la sua quinta rete in tre partite e che al quarantaduesimo dopo aver speso tantissimo ha ancora la forza di centrare la traversa. In pieno recupero arriva anche la quarta rete, Pellonara stende in area Bittai che dal dischetto cala il poker. Un inarrestabile Vastese conquista così la settima vittoria in otto gare, numeri da capogiro che la proiettano tra le primissime della classe. Non ha sconfitta in dieci gare invece per un Fabriano Cerreto che non riesce ad uscire da una crisi di risultati che lo relega al terz'ultimo posto della graduatoria. Mister Colavitto, anche oggi una Vastese inarrestabile con un super Leonetti autore di una doppietta e di una prova corale comunque della squadra molto organizzata. Non c'è stata partita. Sì, hai detto bene. Anche oggi però non era semplice perché mentalmente affrontavamo una squadra che giocava la partita della vita e quindi i ragazzi sono stati bravi ad approcciarla nel modo giusto. Sono contento perché, come dico sempre, non è difficile vincere una partita ma è difficile continuare questo trend di vittoria. E quindi un applauso va a loro che si stanno impegnando giorno dopo giorno. Qual è il segreto? Sono sette vittorie e un pareggio nelle ultime otto giornate. Guarda, i segreti non ce ne stanno. Ci sta solo il lavoro, l'abnegazione dei ragazzi, la società che non ti fa mancare niente, insomma il pubblico che ti segue. Ci sono tutte queste componenti che anche quest'anno girano a favore. È una squadra che non dovevamo dare gli spazi e dopo gli ultimi gol sono arrivati proprio quando inevitabilmente abbiamo concesso gli spazi. È vissuta per 60 minuti sull'equilibrio. Noi abbiamo preso il primo gol su una rimessa nostra, su altre quarti nostre, quindi evidentemente paghiamo il primo errore e lo paghiamo subito a caro prezzo. Queste non sono assolutamente giustificazioni, possono essere dei limiti. Fino a quel momento abbiamo tenuto bene il campo contro una squadra, ripeto, in gran salute e forte. Poi vogliamo attaccarci all'episodio del gol annullato che in quel momento poteva riportarci in parità. Da lì, dal possibile, probabilmente 1-1, siamo passati al 2-0 e da lì finita la partita.